È una partita che credo che non sia stata bella tecnicamente, ci sono state occasioni sui ribaltamenti di fronte, noi una volta passati in vantaggio bisognava fare meglio. Credo partire perché è stata una scelta, perché dovevo fare una partita sicuramente all'inizio era molto più fisica e Guain magari nel cambio mi poteva dare molto. Il risultato è giusto perché abbiamo perso, il risultato che ci fa bene, il risultato che almeno ci brucia dentro e soprattutto è una partita brutta come abbiamo giocato oggi, bisognava portarla a casa lo stesso, basta essere più attenti. Grazie. Un commento sulla partita di Mankiewicz? Mankiewicz ha lottato, è stato da fare e dopo quando Guain è entrata ha fatto bene. Buona serata.